Di fatto raddoppiati in dieci anni, questi container viaggiano normalmente in prima battuta via mare, anche perché questa crescita notevole dei container che vengono trasportati in giro e per il mondo è determinata da un fenomeno straordinario che si chiama global networking, global manufacturing, global sourcing, usiamo una serie di terminologie anglosassone, che in sintesi vuol dire che le imprese hanno incominciato a delocalizzare la loro produzione, lo sapete molto meglio di me, e che quindi c'è un grosso flusso dai punti di produzione che sono sempre più localizzati in paesi a basso costo, ma anche devo dire sempre più spesso, ahimè, ad alta qualità del prodotto che genera, fino poi ai punti di consumo che sono nei nostri paesi, incluso l'Italia e Bergamo. Capite la complessità, capite il costo, capite l'impatto in termini di sostenibilità che prima sostenevole. Il tratto Milano-Brescia è uno dei più trafficati in Europa, viaggiano circa 100.000 unità, cioè veicoli, al giorno con punte di 140.000, di cui 40.000 circa sono mezzi di grande dimensione. Quindi c'è una logistica delle merci, c'è una logistica delle persone e dei passeggeri, c'è una logistica, dovrei dire oggi anche delle informazioni, questa logistica la vediamo spesso sulle nostre strade, gestire la logistica, gestire il flusso di quelle operazioni, il controllo delle informazioni, vuol dire far sì che l'automezzo che sta viaggiando sulla Milano-Brescia giunga al momento giusto, come dicevo prima, nel luogo giusto. Sugli scaffali di un ipermercato voi trovate fino a 5.000 referenze ogni giorno, quindi ogni giorno c'è qualcuno che si preoccupa di verificare che per quelle referenze ci sia il giusto livello di stock sullo scaffale, per rispondere alla domanda che in qualche modo è stata pianificata, che nel back office dell'ipermercato, nel magazzino, nel retro, una volta si chiamavano retro bottega, ci siano le merci per fare durante la giornata il replenishment degli scaffali e nel frattempo qualcun altro, osservando i consumi del giorno, i consumi della settimana e del mese, si sta preoccupando di negoziare con i produttori e di verificare, di emettere degli ordini, perché nel frattempo i produttori rimettano nel ciclo logistico dei prodotti che arrivino poi fino ai magazzini, alle centrali di smistamento, alle piattaforme logistiche, fino al punto di consumo a cui noi arriviamo quotidianamente. E' una scienza in grandissimo sviluppo, in grandissimo sviluppo proprio perché non si verifica più quel fenomeno tradizionale con il quale sono nate le nostre imprese, e cioè il fenomeno dell'integrazione verticale, si produceva tutto molto vicino al luogo di consumo, tutte le operazioni anche fisiche di trasporto avevano luogo nello stesso spazio, spesso in tempi molto affini l'uno con l'altro. Oggi nell'era del global manufacturing, del global sourcing, capite che questa scienza, lo studio dei fenomeni che sono sottostanti alla logistica è fortemente crescente, vuol dire connettere, come potete vedere nella slide, fornitori a produttori, produttori a distributori, distributori a clienti, fino all'ultimo dei consumatori, e poi vi dicevo spesso anche gestire i flussi di ritorno. Quello che sta accadendo negli ultimi anni è che per migliorare l'efficienza di questi processi non solo ci si preoccupa della logistica e delle attività tra singola azienda e suo fornitore e tra singola azienda e suo cliente, ma sempre di più si guarda alla catena della fornitura e alla catena della domanda, e quindi chi è all'interno di un processo di tipo produttivo e logistico si preoccupa anche di capire cosa accadrà ai clienti dei clienti e come si manifesterà la domanda del cliente e del cliente e di capire cosa accade ai fornitori dei fornitori e come questi sapranno reagire a variazione della propria domanda. Per un elemento molto banale da tenere in considerazione, cioè che noi non riusciamo a prevedere molto bene come si comporterà la domanda di qualunque fenomeno, noi non riusciamo a capire quanto sarà la domanda di servizi e di assistenza in un pronto soccorso, è un tipico problema produttivo, non riusciamo a pianificarla molto bene, sappiamo che nell'inverno, nel periodo invernale ci saranno più influenze e quindi più persone che verranno lì a chiedere di essere assistite, ma non riusciamo a prevederlo esattamente, non riusciamo a prevedere esattamente quanta gente oggi verrà a chiedere un litro di latte in un qualunque supermercato. Ci avviciniamo molto bene, ma facciamo fatica a capire esattamente questo. Quindi abbiamo bisogno di usare magazzini, abbiamo bisogno di usare il trasporto in maniera molto veloce, abbiamo bisogno di fare in modo che il sistema di produzione sia in grado di reagire alla domanda, sapendo che invece il sistema di produzione lo controlliamo molto bene. Noi possiamo sapere quanto produce una fabbrica, con che ritmi produttivi, con che capacità produttiva, che difficoltà può avere quotidianamente e questo riusciamo a gestirlo. Poiché la produzione si comporta in maniera molto diversa e può essere controllata rispetto alla domanda, noi abbiamo bisogno di gestire tutto ciò che accade in mezzo e quello che accade in mezzo è compito del cosiddetto supply chain management, che vuol dire gestire tutte le informazioni dal fornitore al fornitore fino al cliente al cliente e poi indietro, come vi ho già detto. Siccome è una scienza in grosso sviluppo, anche noi italiani con un certo orgoglio riusciamo comunque ad aggiungere il contenuto e stiamo sviluppando notevolmente queste tematiche, anche perché l'Italia è un paese che anche geograficamente da un lato presenta grosse difficoltà logistiche, è un paese stretto e lungo e quindi si fa molta fatica a gestire la logistica in un paese come questo ed è un paese che in mezzo ha dei sentieri logistici strategici per l'Europa e per il resto del mondo. Grazie allo sprone e al supporto anche finanziario della Fondazione Italcementi e al commitment dell'Università di Bergamo che ha sposato questa proposta, due anni fa è partito ufficialmente all'Università di Bergamo un programma di dottorato, quindi finalizzato a formare ricercatori d'eccellenza da rilasciare poi per la carriera accademica o per i bisogni delle imprese, focalizzato, e questa è già una cosa anomala perché normalmente i PhD program non sono così specifici, proprio sul tema della logistica e del supply chain management. Per farlo, con l'Università di Bergamo si è deciso di creare un team, quindi di valorizzare uno degli elementi che ho già sottolineato precedentemente, cioè che oggi la conoscenza e la produzione viaggiano secondo le logiche del network, delle relazioni della rete, abbiamo creato una grande triangolazione che in realtà apre e moltiplica poi ad altre relazioni internazionali tra l'Università di Bergamo, l'Università Bocconi, che ha questo centro di competenza che io qui vi rappresento, è il Saragossa Logistics Center di cui il professor Kreiselburg è l'executive director, che è la costola dell'MIT, quindi di una delle scuole più prestigiose al mondo, anche nella logistica, grazie a un centro di ricerca su transportation logistics diretto dal professor Jossi Sheffi di cui il professor Kreiselburg è stato discepolo, in modo tale da poter costituire un gruppo di persone con grande competenza e con infrastrutture anche adeguate che consentissero a questi giovani che selezioniamo ogni anno, sono quattro l'anno, quindi molto ristretto e altamente, direi, competitivo, adesso vi do un numero per capire, consentire di fare uno sviluppo delle proprie competenze logistiche, arrivare ad essere dei ricercatori di eccellenza e quindi dimostrarlo anche attraverso le pubblicazioni e poi ovviamente sviluppare ulteriormente, contribuire a sviluppare la scienza logistica. Quest'anno ci stiamo avviando adesso alla selezione dei nuovi candidati per il prossimo anno accademico, abbiamo ricevuto 13 applications, questo non è un mondo in cui ci sono numeri notevoli, 13 applications però sono un numero alto per un programma come questo, soprattutto la cosa interessante è che abbiamo su 13 applications otto nazionalità diverse, per il primo anno abbiamo messo insieme tra l'altro anche una platea di potenziali applicant e poi partecipanti al dottorato davvero internazionale, di questo devo dire ringrazio l'Università di Bergamo per il supporto che dà e la Fondazione Talcementi che ha sostenuto questo progetto e personalmente mi sento orgoglioso. Adesso li stiamo selezionando, ne abbiamo selezionati otto per il next step, per il prossimo passaggio, ci sarà poi il 4 novembre l'ultimo passaggio, ne dovremo selezionare 4, sarà difficilissimo perché vi assicuro che sono dei giovani di grandi capacità e che ovviamente meriterebbero tutti. In questo progetto noi abbiamo avuto la collaborazione del Saragossa Logistics Center e abbiamo deciso, ci è stato chiesto di invitarne un rappresentante, mi sembrava giusto invitare il professor Kreisberg. Santiago Kreisberg è l'executivo di director ve l'ho detto del Saragossa Logistics Center, dopo lui eventualmente ci dirà qualcos'altro, ha un percorso di studio e di ricerca notevole che si è concluso con il suo PhD conseguito alla Harvard University, sapete tutti essere una delle università più prestigiosi del mondo e oltre che un grande ricercatore, un uomo molto concreto, e un vero globetrotter arriva praticamente direttamente da San Diego dove c'era uno dei convegni mondiali intorno a questo tema, ci...